Monsellice, piccolo comune della provincia di Padova, domani sera ore 19.45. Ai nastri di partenza del campionato italiano individuale assoluto e promesse dei 10.000 metri su pista ci sarà anche un andriese. Ovvio in riferimento a Pasquale Selvarolo, talento emergente del movimento azzurro e da quest'anno portacolori dell'atletica Cassone Noceto di Parma. Oltre al cambio di casacca intanto il suo 2019 è stato caratterizzato anche da quello relativo alla categoria mediante il passaggio da Juniores a Promessa. L'impatto con la nuova dimensione agonistica, inutile nasconderlo, è stato estremamente positivo e ha regalato già importanti soddisfazioni al mezzofondista di Andria, anche e soprattutto dal punto di vista cronometrico. Significativo ad esempio è il tempo con cui ha corso di recente sulla stessa distanza alla nona edizione della Walk and Middle Distance Night di Milano, fatica completata in 29 minuti e 56 secondi e crono decisamente eccellente. Dal 2005 ad oggi infatti soltanto tre azzurri, Daniele Meucci, Pietro Riva ed Alessandro Giacobazzi sono riusciti ad abbattere il muro dei 30 minuti a 19 anni e alla prima stagione nella categoria Promesse. L'ottima performance per soli 6 secondi non è bastata però a Selvarolo per qualificarsi ai prossimi campionati europei Under-23 in programma dall'11 al 14 luglio a Gavle in Svezia. Il minimo imposto dalla FIDAL infatti corrisponde al tempo di 29.50 che sembra essere tutto sommato alla portata dell'Andriese. Di sicuro ci riproverà domani sulla pista dello stadio John Fitzgerald Kennedy di Monselice nella rassegna tricolore in cui punterà pure ad un piazzamento di rilievo tra le promesse. I motivi per far bene in buona sostanza non mancano di certo.